Ragazzi, guardate questo video Sta senza il respiratore C'è questo video Ha già così meno l'ansia E già anche in questo buco, madonna mia Ragazzi, sta venendo proprio l'ansia Ma cosa fa? Ha il respiratore Noi ognuno, guardate qua A questo, no? Noi ognuno Senza il respiratore E sta venendo l'ansia Ha, 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 ha Ha, 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 ha E va E va E va